La svolta. Mi trovavo con la mia sacca su un pontile, in attesa di imbarcarmi su un idrovolante, pronto per la mia prossima destinazione. Avevo avuto notizia che su un'isola di questo arcipelago cercavano una persona con i miei requisiti. Contattato il responsabile, non mi ci volle molto per ottenere un contratto di due mesi. Finita quell'esperienza, mi sarei ritrovato in questo stesso punto, abile ed arruolabile per un'altra avventura. Perché un'altra? Perché accettavo questa vita, che nel lungo termine non mi avrebbe portato da nessuna parte. L'unica risposta che riuscivo a darmi veniva dal subconscio, che per qualche oscuro motivo mi suggeriva di restare in questa parte del mondo il più a lungo possibile. L'idrovolante non era proprio tirato a pietra pomice, e per quello che stavo vedendo, era un mezzo di trasporto misto, cioè per passeggeri e merci, e sotto questo profilo non si poteva proprio avanzare pretese. Chiacchierando con i clienti, mi ero fatto un po' di esperienza su come il tempo variasse da queste parti del globo, ed oggi sentivo l'aria stranamente immobile. Brutto segno, mi dissi. In quel momento, ero vicino all'uomo che curava l'imbarco delle merci, e gli comunicai i miei sospetti. Non si preoccupi, mister, mi disse in tono sicuro. Il periodo delle piogge si sta avvicinando, il tempo di conseguenza è instabile. Al massimo, incontrerete una violenta pioggia tropicale, che vi farà ballare. Il pilota, anche se sembra dare poco affidamento, è uno in gamba, e sa il fatto suo. La ringrazio, spero solo che lei abbia ragione. Mi informai dove fosse parcheggiato l'asso della cloche, e lo trovai in un bar poco lontano. Trovato un posto da dove potevo tenerlo d'occhio, dedicai la mia attenzione ad una birra fresca, nell'attesa che lo chiamassero. Le birre correvano che era un piacere, assieme alle ore. Doveva essere un volo serale, ma si stava trasformando in volo notturno. Mi domandai se il carico fosse merce di contrabbando, e per evitare fastidi avessero spostato il volo, o forse se il probabile maltempo avesse suggerito di posticipare la partenza. Chissà. «Ehi, van der Welt, datti una mossa, siamo in ritardo, il carico è a bordo, ed i passeggeri anche, tranne lui», disse lo spedizioniere che era venuto a dargli la sveglia nel mezzo della notte, indicandomi con il dito. Lo seguì a ruota e, una volta a bordo, vidi solo due passeggeri, seduti sul fianco destro, verso la carlinga. C'era solo un posto libero, dalla parte opposta, in coda, il mio. Tutti i sedili erano occupati da pacchi, cartoni, cassette. La zona destinata a vano merci era stipata al massimo, e ben ingabbiata da una rete. Il mio sedile era proprio davanti a quel muro. Quella sistemazione non mi piaceva per niente, ed una vocina mi diceva di cercarmene uno più avanti, così andai dal pilota per un cambio di posto. «Comandante, il posto assegnatomi non mi piace, vorrei permutarlo con un altro, è possibile?» «Ma scusi, come mai parte del carico è piazzato al posto dei passeggeri?» Si fece una bella risata. «Caro signore, ma quelli sono i passeggeri che sbarcheranno nelle prossime isole. Se il posto non è di suo gradimento, lo cambi, ma non chieda aiuto, deve arrangiarsi, siamo in ritardo, ed io devo far volare questo gioiellino al più presto possibile. Cambiare sedile non fu complicato, i cartoni non erano pesanti, così mi spostai di un posto in avanti. Sempre sullo stesso lato. Si decollò poco dopo senza alcun problema, anzi, devo dire, che il pilota aveva la mano leggera, in altre occasioni la partenza era stata un'esperienza da dimenticare. Ero stanco, e piombai in un sonno profondo. Mi svegliai dopo un po', di soprassalto, quando l'aereo diede uno scrollone. Guardai fuori dal finestrino, e mi si presentò un panorama da apocalisse, scariche elettriche in abbondanza nel cielo nero. Un'occhiata all'orologio, era fermo, la batteria si era scaricata. Dopo vari giri di waltzer, decisi di andare dal pilota per chiedergli cosa stesse succedendo. Nulla di grave, con una smorfia, una bella tempesta tropicale. Ne ho viste di peggio, e sono ancora qui. Ritorni al suo posto, e si allacci la cintura di sicurezza. Approfitti di loro, sono state appena sostituite. Tornai indietro alquanto inquieto e, passando accanto agli altri due passeggeri, mi accorsi del loro pallore, indice che non ero il solo a non essere rilassato. La tempesta peggiorava, e ad un certo punto il velivolo sussultò nuovamente, come se avesse preso un'altra bella botta. A parte sentirlo virare poco dopo, come per prendere un'altra direzione, nulla accadde, e di ballo si calmò di qualche punto percentuale. Ebbi la sensazione che seguissimo il maltempo. Chiusi gli occhi, e cercai di non pensare a nulla. Ancora oggi mi domando come, in quelle condizioni, fossi riuscito a prendere sonno. Mi svegliai verso l'alba. I motori ronfavano tranquilli. Una stiracchiata per connettere, un'occhiata fuori dal finestrino, e con mia grande sorpresa vidi solo acqua. Mi venne un sospetto, slacciai la cintura di sicurezza per dirigermi al lato opposto distendendomi sulle casse, e fuori c'era lo stesso panorama. Un senso di angoscia mi strinse la bocca dello stomaco. Non capivo nulla di navigazione, ma, finora, durante i miei spostamenti, avevo sempre visto delle isole, magari un grosso scoglio. Mai mi ero trovato nel nulla, come in quel momento, e niente solcava l'oceano. E poi, stavamo volando da un bel po'. Dopo un poco, decisi di andare nella cabina di pilotaggio. Passando accanto ai compagni di volo in carne ed ossa, fui sorpreso nel vederli così tranquilli. Dormivano. Signor van der Welt, cosa succede? Non vedo isole da nessuna par, non occorreva essere dei geni per capire quanto fosse preoccupato, e mi bloccai. Non si agiti, per favore, mettendosi il dito indice sulle labbra. Parli piano, non svegli gli altri passeggeri. Inutile propinarle la storiella che tutto va bene. Siamo incappati in due tempeste, una dopo l'altra, che mi hanno costretto a cambiare rotta ogni volta, lasciandomi trasportare da esse per non correre rischi inutili. Sto volando a vista. Un fulmine ci ha colpito, ed ha messo fuori uso gli strumenti di navigazione e la radio, è un miracolo non essere precipitati. Rimasi in silenzio. Cosa si può dire quando ti danno queste notizie? Allora, possiamo considerarci spacciati? Vede, signore mio, finché restiamo in volo, c'è sempre una speranza. Poi, un momento, mi sembra di vedere qualcosa a ore due. Ore due? Domandai interdetto. Sì, leggermente alla nostra destra. Aguzzai la vista, seguendo le istruzioni, e alle prime luci dell'alba vidi una piccola macchia nel grande blu. In circostanze diverse sarebbe stata una descrizione poetica, ma in quel momento di sicuro non lo era. Restammo muti mentre si puntava in quella direzione. Un silenzio, carico di tensione, scese nella cabina di pilotaggio. Dopo poco, incominciò a prendere forma la sagoma di un'isola, ed in due, emettemmo un sospiro di sollievo. Meno male, sussurrai, la fortuna sembra dalla nostra parte. Quest'isola è la nostra salvezza, non volevo impressionarla, ma il carburante sta per finire. Se non mi è venuto un infarto in quel momento, non mi verrà mai più. Ritorni al suo posto, svegli gli altri passeggeri, e di a loro qualche informazione non allarmistica, in merito alla decisione di procedere ad un ammaraggio di fortuna. Io non ho tempo per dare spiegazioni. Lentamente ritornai sui miei passi, ed esegui la richiesta, la quale per fortuna non generò tante domande. Sentite, siamo in emergenza, ma non c'è pericolo. Scendiamo su di un'isola solo perché c'è poco carburante, e non ci sono altre alternative. Rimandiamo le domande a dopo. Allacciate le cinture di sicurezza, e non fumate. Cercai di ironizzare. Bloccai il passeggero che voleva andare dal pilota, con un secco, sieda. Lui ci pensò su un momento, e poi obbedì. Ritornai al mio posto, ed allacciai la cintura di sicurezza, e la serrai più del solito. L'aereo fece un giro attorno all'obiettivo, a bassa quota, così ebbi modo di vedere che non era un atollo, ma un lembo di terra di origine vulcanica, di forma allungata, non tanto piccolo, con all'estremità due montagne medio-alte, una scura e l'altra chiara, con pareti a picco, collegate fra loro da un basso altopiano verdeggiante di forma curva, che presentava la parte bombata a strapiombo sul mare, con ai piedi una scogliera su cui si infrangevano spumeggiando, le onde. Si estendeva in piano, poi degradava su tre livelli di non grande profondità, per terminare con una poco profonda striscia alberata, su cui si affacciava una spiaggia leggermente concava, delimitata da due robuste protuberanze sui fianchi delle montagne. Un'ampia barriera corallina, faceva da anfiteatro, impedendone l'accesso via mare. In base al frangersi delle onde, si intravedevano due passaggi, tutti e due rasenti i promontori, indicando così un accesso laterale alla spiaggia. Di colpo, senza ragione esclamai, non mi piace quella montagna scura, porta IEL a guardarla. Non so se Van der Welt sentì la mia esclamazione, o fosse una sua decisione personale, ma puntò il muso dell'aereo in modo da terminare la corsa in corrispondenza di quella chiara. Incominciò a scendere. «Attenzione!» urlò il pilota. «Inizio la manovra. State ai vostri posti. Vedrete che tutto andrà bene!» La discesa fu regolare. Tutto stava funzionando alla perfezione. Chiusi gli occhi istintivamente, e mi raccomandai a Dio. Sembra strano, ma quando ci si trova con un piede nella fossa, chissà perché, ci si ricorda della sua esistenza, e lo si invoca. Toccammo l'acqua, sentì l'urlo dei motori, il classico sballottamento. Ad un certo punto, l'aereo sembrò impazzito, mi sentì shakerato, poi un urto. Non ebbi neanche il tempo di urlare, che il buio mi indiottì. A presto. Grazie.